Ciao famiglia Nerazzurra, benvenuti nel nostro canale Inter News. Mettete mi piace al video e iscrivetevi per non perdere le prossime news Inter qui. Joaquin Correa, detto Tuku, potrebbe lasciare l'Inter nelle ultime ore di questo mercato. Il futuro dell'attaccante argentino è aperto e sembra che ci sia la possibilità che possa unirsi a un nuovo club prima della chiusura del mercato. Secondo le informazioni diffuse dal quotidiano La Nuova Venezia, il nome di Correa è stato proposto come suggerimento per rinforzare l'attacco del Venezia, la società guidata dall'allenatore Eusebio Di Francesco. L'interesse del Venezia per Joaquin Correa è visto come un'interessante opportunità per il giocatore e per la società. Dopo una stagione poco brillante all'Inter, dove Correa ha faticato a trovare spazio in una rosa competitiva e ricca di opzioni offensive, il passaggio a una squadra come il Venezia potrebbe significare una nuova fase nella carriera del giocatore argentino. Di Francesco, che sta cercando di rafforzare la sua squadra, vede in Correa un giocatore capace di portare esperienza e qualità tecnica alla rosa. Il possibile trasferimento di Correa al Venezia, però, si trova di fronte a un ostacolo non da poco, l'alto ingaggio del giocatore. Attualmente l'argentino guadagna circa 3,5 milioni di euro all'anno, una cifra superiore al budget abituale di un club come il Venezia. Questa questione finanziaria può essere un punto di contesa nei negoziati e dovrebbe essere risolta affinché l'accordo possa andare avanti. Forse il Venezia dovrebbe trattare un accordo che preveda che l'Inter prenda parte dello stipendio di Correa o trovi altre modalità creative per finanziare l'acquisto. Inoltre, la decisione sull'addio di Correa è legata anche alla programmazione dell'Inter. Il club nerazzurro, sotto la guida di Simone Inzaghi, ha cercato di bilanciare la propria rosa con acquisti mirati e partenze strategiche. Anche se Correa non si è distinto la scorsa stagione, la sua partenza dipenderà comunque da un'attenta valutazione dell'impatto che avrebbe sulla rosa. Bisognerebbe convincere il direttivo dell'Inter che il trasferimento sarebbe vantaggioso sia dal punto di vista sportivo che finanziario. Il percorso di Correa all'Inter, finora, è stato caratterizzato da momenti di alti e bassi. Acquistato con grandi aspettative, il giocatore non è riuscito a imporsi come titolare assoluto ed è stato spesso lasciato nell'ombra di altri attaccanti come Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Con l'interesse del Venezia, un potenziale trasferimento potrebbe essere visto come un'opportunità per rivitalizzare la sua carriera in un ambiente diverso, dove forse potrebbe vedere più tempo per giocare e un ruolo più importante. E tu, tifoso dell'Inter, cosa ne pensi di questa possibilità? Credi che la partenza di Correa sarebbe positiva per il club? Oppure ancora qualcosa da offrire all'Inter in questa stagione? Lascia la tua opinione nei commenti.